Il cinema oggi trova un prezzo che è assolutamente diverso da quello che è il normale acquisto di un singolo biglietto. Bruno Ploier, Sky TG24. 14.54 mi fermo qui tra pochissimo timeline con Alessio Viola, ci rivediamo per le edizioni del pomeriggio più tardi. Grazie. Ciao Sky, metti la Champions. È più bello tornare a casa con Sky. Scopri di più su sky.it Bellissimo pubblico, ben trovati. Parte saldi d'estate, la straordinaria promozione che ti offre un sistema di riposo completo matrimoniale composto da BioComfort Superior, il materasso con superficie massaggiante in lattice e da Emotus, la rete elettrica doga in legno a soli 247 euro grazie ad uno sconto del 74%. Con BioComfort Superior ed Emotus dormi su un sistema di riposo ergonomico, igienico e superconfortevole e si adatta a te grazie ad un semplice telecomando. Zona testa su e contrasti russamento e apnee notturne. Zona piedi su e aiuti il sistema cardiovascolare. Come potete vedere il suo valore commerciale è di 950 euro, ma oggi Marion te le offre a soli 247 euro o per chi lo preferisce con 12 piccolissime rate da 20 euro e 58 centesimi. E per la prima rata prenditela comoda, dormi per ben 90 notti su questo sistema di riposo e solo allora comincerai a pagare. Tasso zero è tutta la comodità che ti serve, ma c'è ancora una sorpresa ad attenderti. Solo per un brevissimo periodo potrai scegliere fra due omaggi straordinariamente belli e straordinariamente utili. Il set di accappatoi e asciugamani in coordinato, realizzati tutti in morbida spugna di cotone. Goditi un comfort assoluto dopo la doccia o dopo il bagno con i nostri accappatoi per lui e per lei e l'utilissimo cuscino posturale sagomato, una bella novità, perfetto per realineare spalle, colonna vertebrale e bacino durante tutte le ore della notte. Ma attenzione perché l'offerta a saldi d'estate sarà attiva solo per pochi giorni. Ecco perché quest'anno Marion non va in vacanza. La nostra azienda resterà aperta per consentire ad ognuno di voi di approfittare di questa promozione. 247 euro per un sistema di riposo dal valore commerciale di 950 euro. 12 rate da 20,58 euro al mese grazie ai comodi pagamenti rateali a tasso zero. Ma Marion ha ancora in serbo una sorpresa. Potrai scegliere tra i due omaggi che Marion ha selezionato proprio per te. Il set di accappatoi e asciugamani in coordinato e l'utilissimo cuscino posturale sagomato, una bella novità. Ma come facciamo a offrirti tutto questo ad un prezzo così basso? Beh ma è semplice perché comprare da Marion è come comprare direttamente dalla fabbrica. Zero costi di intermediari e solo tanta, tanta convenienza. Ciò che devi fare è semplice. Digita il numero in sovrimpressione e chiedi la visita gratuita e senza impegno di un consulente qualificato. Chiama Marion, soluzioni per dormire! Nuovo Magnum Double Star Chaser Croccante cioccolato, gelato al gusto di popcorn e salsa al caramello salato per la notte. Tieni il piacere sempre acceso. Scopri anche il nuovo Magnum Double Sun Lover per il giorno. È l'ora di fare le valigie e partire. Il decollo sarà in orario. Ti aspettano nuove mete da visitare. Che ne pensi? Credo che si possa fare. Ma anche inaspettati eventi. Che diavolo succede? Shhh! Silenzione. Si consiglia un bel tuffo in acqua. Divertitevi laggiù! Delle escursioni guidate. Mio Dio! E assoluto relax. Il giorno adatto per farsi un giretto. SOS è stato in allerta. Tutti giovedì alle 21.30. Su TV8. Al tasto 8 del telecomando. Eccoci! O poli! Ah! Si!